ciao primo video sul mio canale youtube il primo giorno della via degli dei trekking di cinque giorni in completa autonomia riscaldamento per andare dal bed and breakfast al punto di partenza piazza maggiore siamo ovviamente a bologna e niente speriamo tutto vada bene ci vediamo durante la giornata ma soprattutto durante il cammino ciao